L'ennesima tegola sembra battersi sul sistema sanitario Locrideo, da oggi tutti i servizi sanitari offerti presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Contradaverga saranno sospesi per il sottorganico del personale medico e paramedico. Potrebbe definirsi il dramma degli innocenti, ciò che si presenterà agli occhi di tantissimi neonati, bambini e adolescenti, purtroppo affetti da diabete di tipo 1, obbligati a recarsi presso il reparto nonché dei genitori, costretta a sobbarcarsi d'ora in avanti centinaia di chilometri per raggiungere forse la Mezzia Terme o Catanzaro o addirittura Crotone. La paventata chiusura del reparto ospedaliero, qualora fosse definitiva, avrebbe conseguenze irreparabili tanto per il servizio di pediatria e neonatologia offerto che per il centro di diabetologia pediatrica operante all'interno con funzioni di diagnosi e cura del diabete nei pazienti affetti e di età compresa tra 0 e 18 anni, nonché delle alterazioni correlate dal metabolismo glucidico. Sede coordinatrice della rete diabetologica calabrese, il centro Locrese, risulta anche presente sul territorio con tre ambulatori interdestrittuali a Siderno, Reggio Calabria e Palmi. Ma nonostante il bacino di utenza vastissimo che arriva sino alle serre Vibonesi, l'equipe medica specialistica vanta la sola presenza di Mariella Bruzzese, quale pediatra e diabetologa. Dopo i primi disagi, risalenti a circa un anno fa, i servizi offerti presso la struttura Locrese con l'andare del tempo hanno funzionato sempre più a singhiozzo, tra lunghe file di pazienti, snervanti attese dei genitori e turni massagranti del personale medico e paramedico. Man mano che la situazione peggiorava, gli interessati non sono certo rimasti con le mani in mano, ma nonostante gli incontri avuti ed i ripetuti solleciti avanzati, al momento è rimasto soltanto il ricordo di un fiume di parole pronunciate puntualmente dai politici d'ogni colore. Nessun atto concreto si è visto, soltanto semplici promesse, chiacchiere infinite e vane attese dinanzi a una malattia cronica che però non attende e che purtroppo presenta il continuo aumento del tasso di incidenza. Sul piede di guerra e pronte ad una difesa d'oltranza del reparto di Contradaverga si dicono i genitori, direttamente coinvolti, che sono pronti a proteste sin da oggi.